Il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi di cannone ha annunciato ieri a Monterosso Almo l'inizio dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, padrono e protettore del centro montano. Il solenne novenario che prende il via oggi e che proseguirà sino al 2 settembre caratterizzerà le fasi di avvicinamento alla giornata clou delle celebrazioni, quella di domenica 3 settembre. Durante il novenario, tutti i giorni alle 19.30, ci sarà la recita del rosario e la coluncina mentre alle 20 è in programma la Santa Messa. Nello specifico, oggi ci sarà la celebrazione della giornata missionaria con la Santa Messa che alle 20 sarà preseduta da Don Giuseppe Iacono. Domani, sabato 26 agosto alle 18.30, nell'ambito di Cultura Arte 2017, si terrà a Palazzo Cocuzza la presentazione del libro La Follia di Gesù di Danilo Serra. Alle 20 la Santa Messa sarà preseduta da Don Mauro Nicosia. Domenica è la giornata della famiglia. Alle 20 la Santa Messa sarà preseduta da Don Salvatore Converso, mentre alle 21 in piazza San Giovanni ci sarà il concerto sinfonico diretto dal maestro Umberto Terranova, mentre alle 22.30, sempre in piazza, è in programma lo spettacolo di cabaret con i falsi d'autore. Ma l'appuntamento clou di domenica è senza altro rappresentato dalla Sagra del Pane che si svolgerà in piazza San Giovanni con inizio alle 18.30. I panifici presenti nel piccolo centro montano sono pronti a preparare più di mille chili di pane, casareccio di varie prezzature che saranno conditi con olio, origano ed il classico pomodoro secco, vale a dire uca puliato. Sarà possibile gustare anche il pane fritto con l'uovo, la pizza bianca, i cannoli conditi con la ricotta locale e le gustosissime crispelle monterossane. Il tutto bagnato da un buon vino rosso locale. Sarà altresì possibile degustare la pasta casareccia con le lenticchie cucinate da esperti cuochi secondo le vecchie ricette contadine. Saranno inoltre presenti altri stand che esporranno per una degustazione prodotti locali come il miele, l'origano, la barmellata di mele, cotogne ed altri preparati enogastronomici. L'inizio della sagra sarà caratterizzato dalla sfilata del corpo bandistico città di Monte Rosso Almo, del Vespa Club di Comiso e dell'apertura dei mercatini artigianali. La festa di San Giovanni Battista, dice la ciprete Don Marco Diaria, è un momento di straordinaria intensità per la grande devozione che la comunità monterossana nutre nei confronti del proprio patrono. È anche un modo per creare piacevoli momenti di aggregazione che ci permetteranno di apprezzare ancora di più lo stare assieme all'insegna della benedizione del Santo Precursore.